Allora, ho creato questa esercitazione. Allora, siccome io, tempo fa, due giorni fa, ho creato questo video partendo da un disegno che ho trovato su internet di una ruota d'entrata conica e ho trovato dalle incongruenze, mi sono modificato il disegno partendo naturalmente dal disegno base. Qui l'ho creato in 3D e qui sono andato a modificare cancellando dalle quote che i miei alunni devono trovare in automatico. Quelle che ci sono sono le quote fondamentali, poi tutte le altre si possono dedurre. Si possono dedurre tenendo conto che devono sapere, cioè devono aprire il manuale di meccanica e andare a vedere delle formule, cioè come si trova il diametro primitivo, il diametro di testa e di fondo. Così in modo da creare la linea di fondo, la linea di testa e la linea primitiva. E dove metterlo? Ok? E dunque questo è interessante. Però questo poi lo farò nella rappresentazione, cioè questo in realtà non vado a creare i denti, vado semplicemente a creare un 3D, come ho fatto a vedere poi in quel video, un 3D e poi vado a fare dei taglietti. Qui di fatto ho scritto, per rappresentare nella messa in tavola i denti non selezionati come la norma, creare un taglio estruso a piano intermedio di spessore 0.0001 mm. La zona di taglio che schematizza il dente è limitata inferiormente dalla linea di fondo. L'addendum e il dedendum sono quelli standard. E dunque vado a vedere sul manuale di meccanica e li trovo. A questo punto mi serve andare a vedere e poi vado a disegnare. Ok? Specchiare questa zona in modo da creare una uguale a 180 gradi. Dunque è tagliato, ok? In questo modo e poi ne ho una seconda. Al di là che la variazione di peso sarà minima, dunque non si accorgeranno neanche. Però, tanto perché poi lo scopo è andare a fare la messa in tavola secondo norma. Vabbè, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci.